Un saluto a tutti gli amici appassionati di betting e investimenti sportivi e benvenuto a questo appuntamento video dedicato al tennis, tennis che oltre ad essere probabilmente il mio sport preferito dal punto di vista investimenti è uno sport che trovo molto adatto e molto interessante. Sto portando a termine una guida diciamo nuova, completa, un corso tennis basato proprio sulle Asia Notes e sui bookmaker spia, molto interessante perché permetterà anche a persone che il tennis lo conoscono meno di poter avere uno spunto e uno studio interessante relativamente proprio a questi tipi di giocate, però oggi non vi voglio parlare di queste giocate, ovvero singole, ma vi voglio parlare di investimenti in ambito tennis facendovi alcuni ragionamenti interessanti. Ad esempio è in corso il Master 1000 di Madrid sulla Terra Rossa, insieme a Monte Carlo e a Roma sono i tre tornei principali prima del Roland Garros, accompagnati poi da vari tornei 250 relativi Challenger per i giocatori di categoria minori che portano appunto nel vivo e poi al top la stagione sulla Terra Rossa. Che non si conclude ovviamente dopo Parigi, va ancora avanti, ma che comunque arriva al suo, diciamo, momento più alto in queste manifestazioni. Il Master 1000 di Madrid è un torneo, diciamo così, esageratamente importante, è un ottimo mercato sicuramente, tra l'altro per la Spagna e per i propri tennisti, perché comunque gli spagnoli hanno una grande tradizione sulla Terra Rossa e sicuramente un appuntamento importante. Madrid chiaramente è una città già che sappiamo che importanza abbia per la Spagna e comunque per tutti, vuol dire che la squadra di calcio reale sappiamo che cosa rappresenta. Però onestamente nella bacheca, diciamo, dei giocatori, per esempio se andiamo a settimane precedenti, club, torneo di Barcellona, che è un torneo 500, club più antico del mondo, ha una tradizione per la Terra Rossa molto particolare, pur essendo un torneo minore, mi fa venire in mente per esempio anche il Queen's a Londra, sull'erba, diciamo. Però ovviamente Madrid è il torneo principale, il Master 1000, ma rispetto magari anche lì a un torneo tradizionale, precedente come Monte Carlo, rispetto magari tutto sommato anche a Roma, che per me ha comunque una sua valenza, non è comunque quel torneo che ti cambia la carriera. E quindi da un certo punto di vista diventa anche, a mio avviso, più interessante. Andiamo a vedere un attimino intanto i vincitori delle edizioni precedenti, a partire praticamente dal 2021 di questo torneo, e lo scorso anno, dovrà difendere il titolo, abbiamo praticamente Zverev, che vinse proprio su Berrettini, Berrettini che non è presente perché è infortunato. Nel 2020 non si giocò per pandemia, quindi andiamo indietro nel 2019, e praticamente fu vinto da Djokovic su Tsitsipas, comunque è stato anche il finale a Roland Garros, intanto comunque non erano presenti i spagnoli. Nel 2018, anche qua, vinse nuovamente Zverev su Tiem, che comunque è un torneo che Zverev, iniziamo a vedere, ama molto da questo punto di vista, due vittorie sono sicuramente importanti. Poi di che nel 2017 vinse Nadal ancora su Tiem, Tiem che è un giocatore di qualità ma che è già uscito, eliminato da Murray ieri, perché non sta recuperando dall'infortunio che ha avuto, sta faticando molto. Quindi vittoria di uno spagnolo già dobbiamo andare indietro di qualche anno. Poi nel 2016 vinse ancora Djokovic su Murray, che Murray anche lui gioca praticamente ora con una specie di protesi, alleanche, problemi vari, non è sicuramente più lo stesso giocatore di prima. Poi vinse Murray ancora su Nadal, quindi torneo che ha dimostrato di amare nel corso del tempo, ora non faremo la cronistoria di tutto il torneo, ma già che ci sono voglio fare un giretto per farvi vedere alcune cose. Nadal su Nishikori per ritiro, tra l'altro, tenista giapponese, anche lui ai box, per determinati problemi. Il tennis è uno sport veramente logorante, non è facile rimanere a determinati livelli. Nadal su Wawrinka, 2013, comunque intanto Nadal è anche l'unico spagnolo che vediamo nell'albo d'oro dei tennisti più importanti, Federer su Berdic, anche qua una vittoria di Roger Federer, che la terra non l'ha più di tanto, ormai Federer anche lui ai box praticamente, Djokovic su Nadal, questa cosa da tenere in considerazione, mi fermo al 2010, mi è andato indietro di oltre 10 anni, perché poi ovviamente cambiano determinate cose, e praticamente Nadal su Federer. Più o meno questi i giocatori che hanno vinto. Il tabellone attuale, alla luce di quello che abbiamo detto, è un tabellone che vede quasi tutti i migliori presenti, Djokovic alla testa di serie numero uno, dopodiché sulla sua strada potrebbe incontrare a breve, ad esempio un atleta che abbiamo visto vincere in questo torneo, Marry, o comunque amare questo torneo, in generale, dopodiché Kasper Rude, anche se è un po' in calo, è sicuramente tra i giocatori principali, ma subito dopo ovviamente il nome importante è Nadal, Nadal che rientra però da un infortunio, dopo aver perso l'Indian Wells contro Fritz, che non è un infortunio da poco, lo ha condizionato abbastanza. Dopo se devo fare appunto un giro, c'è ovviamente quello che io ritengo il favorito numero uno, Alcaraz, perché dopo aver vinto Bayemi, primo master mille in carriera, dopo aver vinto Barcellona, è il giocatore ovviamente che è più in forma, è il prospetto numero uno, di una certa importanza. Quindi scendendo ancora, Tsitsipas che, finalista Roland Garros, nei master mille non ha ancora trovato, diciamo a una strada di una certa continuità, sta subendo un pochettino l'avvento di giocatori come Alcaraz, che l'hanno rinunciato per esempio a Barcellona, però si è riconfermato a Monte Carlo, seconda vittoria di fila. Per lui in questo torneo, Sinner, il protagonista del video, perché praticamente il titolo lo vedete riguarda Sinner, e dopodiché Zverev, che è il defending champion. quindi investimento, io dico Sinner, potrà vincere un master mille, parlando di Sinner, chiaramente, e il video riguarda appunto lui, è un po' difficile parlare di questo ragazzo, perché da una parte in Italia si tende a pompare i giocatori, mettergli addosso una pressione, subito secondo me più grande di quel che sembra, anche se poi gli osservatori lo accreditano di essere veramente un talento importante, però l'Italia del tennis è molto indietro, l'ultimo a vincere un master mille, è stato Fognini, che poi non si è rivelato chissà che top giocatore a Monte Carlo, e dopodiché dobbiamo andare indietro ai tempi di Panatta Pietrangeli. Sinner non è ancora riuscito a imporsi a livello di master mille, nemmeno Berrettini ha ottenuto, certo grossi risultati, ricordiamo la finale di Wimbledon, però comunque è un giocatore che è anche molto diverso da Sinner, e ovviamente entrambi sono usciti fuori dai primi dieci. Ora Berrettini qui non è presente, quindi gli occhi sono tutti su di lui. Poi c'è un problema in Italia, con la mancata qualificazione ai mondiali, seconda volta di fila, si cerca un pochettino di andare a trovare alternative negli altri sport. Ultimamente il tennis ha dato belle soddisfazioni, anche perché dopo le Olimpiadi, qualche successo a volte volley e basket, c'è stato i tempi del Sei Nazioni del rugby, non si vinceva, adesso si perde sempre, non si vinceva ma si era protagonista. Insomma, si cerca un'alternativa negli altri sport, del tennis sta diventando la grande speranza, con Sinner che possa veramente riportare un italiano a vincere il Master 1000, dopo Fognina addirittura a vincere una prova del grande slam. Realmente ce la può fare questo ragazzo? Io ho cominciato a dubitare, dubitare perché è una sorta di problematica fisica continua, soffre di vesciche che continuano a dargli dei problemi, non riesce a curarle per l'età che ha, spesse volte si è ritirato. Fragilità muscolare, anche ieri nell'esordio ho trovato tre match point con Tommy Paul, e nonostante abbia vinto la partita, ha chiamato il medico perché aveva problemi inguine, quadricipite, non ho capito bene, a volte ha problemi di stomaco. Ha cambiato allenatore, da Piatti a Magnozzi, sembrava dovesse arrivare Magnus Norma, ma anche secondo me un nome importante a seguirlo, non perché gli italiani non vadano bene, ma sarebbe bello ogni tanto che un italiano trovi anche una combinata con qualche volpone, del circuito, io sto vedendo il bel lavoro che stanno facendo per esempio Wayne Ferreira, ma chissà che vincente a livello di carriera, un buon giocatore con Tiafo, il protagonista settimana scorsa al finale all'Estoril, oppure Nalbandian con Kekmanovic, cioè sta giocando, l'ha fatto crescere in una maniera straordinaria, ma penso solo a Fernando Vicente con Rublev, che ha vinto battendo Djokovic a Belgrado, ma lo stesso Ivanisevic, che praticamente si è aggiunto a Djokovic, Tony Nadal che è lo zio di Nadal con Aliasim, insomma avrei voluto vedere un altro tipo di allenatore vicino a Sinner, e quindi questo secondo me è già un limite a livello generale, ma lo stesso è con Juan Carlos Ferrero con Alcaraz, cioè grandi giocatori o medi giocatori, però hanno una certa storia nel circuito, a Sinner questo manca. Problemi fisici, questo fatto, già una finale persa a Miami in un Master 1000, non vuol dire niente, però sicuramente quando inizia a perdere le finali può pesare, Aliasim ne ha perse 8 prima di riuscire a vincere un torneo in carriera, per modo di dire, non era nemmeno un torneo top, però comunque un torneo, Sinner si è fermato lì a Sofia, l'ha ripetuto, l'ha difeso da un 2,50, comunque alla fine quando si tratta di giocare con avversari tra i primi dieci, insomma vediamo Rune, che viene accreditato come il nuovo fenomeno del tennis danese, addirittura vuole già vincere il Roland Garros, vuole eguagliare Nadal, vede discorsi di un ragazzino, intanto prima finale, è vero che si è ritirato Van de Zanschel, un po' Monaco di Baviera, primo centro, cioè ci stanno arrivando anche in maniera più facile, Alcaraz, che è quello con cui si confronta Sinner, che è vero che è più muscolare, probabilmente ha anche più di talento, anche se sono stati messi lì, e intanto insomma vince Rio de Janeiro, vince Barcellona, vince soprattutto il primo Master 1000 a Miami, non è nemmeno sulla terra, e quindi già viene visto come protagonista, Roland Garros, quindi insomma Sinner è un pochettino indietro, cioè i fenomeni, se sono fenomeni, vincono a questa età, certo non sono nemmeno come quelli che già gli sparano addosso di tutto, cioè delusione, scarso, eccetera eccetera, sto oggettivamente cercando di capire quali sono le difficoltà di questo ragazzo, che caratterialmente, sembra forte, perché di partite ne gira tanti, non mola, ieri ripeto, sono dato tre match point, caratterialmente forse ha qualche limite ancora nel, magari, affrontare un pochettino dopo le sconfitte, capire gli errori, si vede che gli danno fastidio molto le sconfitte, ma probabilmente bisogna anche capire il filo conduttore delle stesse, quindi deve lavorare un po' lì, lì forse l'allenatore era importante, pure ha colpi di varietà importanti, forse a servizio, certo non può avere a servizio di berrettini, è dove magari a volte si perde un po', però gestione del punto straordinario, soprattutto dei punti importanti, potenza, ce l'ha comunque per il fisico, che ha un fisico in fase di sviluppo ancora, vista l'età, su quale si può lavorare, altri elementi importanti, carattere c'è, staff tecnico non mi entusiasma, e quindi lo può vincere, prima o poi un master mille o meno, e io al momento ho dei dubbi, fatico a pensare che possa farcela, perché da un certo punto di vista, vedo qualcosa ancora che non va, quindi passando al discorso, scommesse investimento, e per esempio su questi tornei è molto bello, perché a tipi di Madrid, c'è la possibilità di giocarsi, il vincente della manifestazione, andandosi a vedere le quote di questo torneo, notiamo che Nadal 3,25, secondo me questa è la classica quota, troppo bassa, troppo scontata, Nadal l'ha vinto il torneo, ci tiene, però è fermo, è vero che sembrava anche che all'Australian Open, non potesse mai vincere, e poi ha vinto, però insomma la terra fisicamente, è più difficile da reggere, soprattutto se arrivi da un infortunio, quindi comunque Nadal 3,25, già io personalmente, magari lo vince, però se per modo di dire, il mio stake di giocata è 50-100 euro, mettiamo pure 100, su vicente manifestazione come stake di giocata normale, 100 euro a 3,25, che è un ottimo rapporto rischio rendimento, 1 a 3, però su Nadal non lo spreco, piuttosto non gioco il torneo, Alcaraz 4,5 è il mio favorito, quindi se volessi giocarmi i miei 100 euro su Alcaraz, secondo me è il favorito del torneo, però anche qua, sì, per carità, bellissima quota, 4,5, la metto lì, ci ragiono su, Zizipas 5,5, mi piace molto come giocatore, ma onestamente penso che abbia un muro davanti di avversari, e non è in un gran momento di stagione, anche lui ha preso Thomas Enquist nello staff, insieme al padre, è ancora un giocatore, però che anche dopo l'infortunio, che ha affrettato il rientro, ha ottenuto già dei buoni risultati, difendendo Monte Carlo, però, però, anche lui, secondo me, per vincere un altro mille, tra l'altro, avendo già vinto Monte Carlo, personalmente, non mi piace, Diokovic a 6,5, mi piace più di Alcaraz, perché Diokovic, sta avendo dei problemi, solo ed esclusivamente, dovuti al fatto che ha giocato poco, per il problema del bacino, lui non si è vaccinato, ha dovuto saltare dei tornei, e ora, con il cambiamento delle regole, può tornare a giocare, ha perso a Belgrado, sorpresa contro Rublev, però non è che a Belgrado, vincesse sempre, i tornei alla fine che contano, sono questi, secondo me, Diokovic, che ha dovuto rinunciare al titolo, in Australia, che è un po' casa sua, in termini di titoli del grande slam, perché ne ha vinti veramente tantissimi, li puntava al decimo, e ha subito l'affronto da Nadal, che è andato a vincere proprio lì, e si è portato avanti, nella classifica degli slam, andare a vincere, in casa di Nadal, già Diokovic a 6,5, che adesso comincia a rodarsi un po', e cerca appunto una bella vittoria, se vincesse qui, secondo me, poi vai direttore Roland Garros, magari non gioca nemmeno Roma, però da vedere, perché comunque ha bisogno anche lui di punti, è rimasto numero uno, Diokovic a 6,5, paradossalmente mi piace di più di Alcaraz, perché attenzione, è Diokovic, e non è che non sta vincendo perché è scarso e tutto, la vicenda la sappiamo, questione di partite, quindi già un rapporto 1,6, 100 euro su Diokovic a 6,50, già mi piace di più, quindi in questo momento, e chiudo i favoriti con Zverev a 12, che ha vinto qui due volte, che però è in crisi nera, difendere il titolo, certo con una quota a 12, magari l'orgoglio, l'entusiasmo, però onestamente non è lo Zverev, che secondo me può fare la vittoria, qui quest'anno, la vedo molto molto difficile, tutto è possibile nel tennis, difende il titolo, potrebbe ritrovare la strada qui, come la vittoria, l'ha ritrovata Zizi, passa a Monte Carlo, ci mancherebbe, però a livello di gioco, dopo la squalifica, diciamo, nel doppio, che ha preso a sedia, ha racchettate la sedia dell'arbitro, anche lui sta cambiando qualcosa a livello di staff, non lo so, sicuramente è una situazione, quella di Zverev, che la vedo difficile, quindi per il momento, Diokovic a 6,5, più di Alcarazza a 4,5, dopodiché abbiamo degli altri nomi, Rud, Rublev, tante sorprese, e va bene, io questi, in questo torneo, vista la presenza di giocatori, del calibro di Nadal, Alcarazza, Diokovic, che partono in prima fila, come fosse la Formula 1, Zizipas, e Zverev in seconda, onestamente gli altri, non li prendo in considerazione, e arriviamo quindi a Sinner, Sinner a 23, vuol dire che se gioco 100 euro, ne vinco 2.300, un rapporto 1-23, pazzesco, e quindi mi risponde alla domanda, può Sinner vincere un Master 1000, prima o poi? La risposta è, fatico al momento a metterlo, però con una quota del genere, con il valore di questo ragazzo, che però adesso è partito un po' in sordina, bisogna vedere come l'ho messo fisicamente, partendo come qualità, questo giocatore, bisogna anche fare questa analisi, si trova in un torneo, con la voglia di esplodere, dove trova Zverev, defending champion, in difficoltà, Nadale Diokovic, non i migliori Nadale Diokovic, per carta d'identità, per priorità di voglia di trofei, perché si preparano per il Roland Garros, e per forma fisica, e dopodiché ha i due più in forma, in termini di risultati, Alcaraz e Zizipas, Zizipas che lo ha già battuto sul cemento, è più giocabile per lui sulla terra, che ha già, diciamo, non la pancia piena da Monte Carlo, però il suo importante lo ha fatto, è uno che vuol sempre vincere, non è lì sicuramente per perdere, però in un confronto testa a testa, secondo me sulla terra partono, non dico 50-50, Zizipas passa qualcosa in più, però non è nemmeno 70-80% Zizipas, magari al massimo 60-40, la grande incognita potrebbe essere, a quel punto Alcaraz, Alcaraz che gioca in casa, e in un certo senso, è il giocatore più in forma, da questo punto di vista, però quando si sono incontrati, stesso Alcaraz, anche con Berrettini, se l'era giocata sulla terra, non dico che faccia più fatica, però anche nella semifinale con Deminau, Barcellona, è stata bella combattuta, quindi, diciamo che, attenzione, questa situazione è comunque in equilibrio, per cui, se io devo, diciamo, andare a vedere, un discorso del genere, come investimento, ho tre scelte, mai prendere, il giocatore proprio sulla carta, il più favorito, quindi Nadal, non lo giocherai mai, andare realisticamente, l'astronascente, il giocatore più in forma, quello che secondo me è, Alcaraz, 4-5, è una quota già buona, rapporto 1-4, prendere il giocatore, più affidabile, con più voglia di vittoria, con più necessità di vittoria, con le qualità per farlo, un top assolutamente, di Ocumic ha una quota 6-5, oppure tentare la sorpresa, e giocarsi Sinner, che prima o poi potrebbe sfondare, però, c'è anche un'opzione intermedia, dividere il proprio stake, prendendosi tre favoriti, e quindi, arrivare al punto che, con la vittoria di uno o dell'altro, sono perlomeno in parità, già partendo con Alcaraz, 1-4, come rendimento che, certo, se vince Nadal, e uno ha scelto, uno tra, ha scelto, da dividere la giocata tra Alcaraz, Diokovic e Sinner, si perde comunque, è anche vero che, all'interno poi del torneo, si possono fare delle giocate, chiaramente importanti, quali sono queste giocate? Giocate sulle singole partite, dove si può, ovviamente, andarsi a coprire, andare a fare altri tipi di giocate, è chiaro che, l'investimento, su un singolo giocatore, non è così semplice, come sulla singola partita, però, vi assicuro che, da un certo punto di vista, giocare sul vincente manifestazione, ha il suo fascino, e tra l'altro, nel tennis, non è come sul calcio, che giochi il vincente Champions League, giochi il vincente campionato italiano, eccetera, devi aspettare tutta la stagione, qui si fa in una settimana, quindi comunque interessante, per cui, diciamo che, per concludere, e dare un'idea, e quindi parlare di un investimento, se devo scegliere, io ovviamente mi gioco, Alcaraz, come vincente favorito del torneo, Djokovic, come realisticamente, quello che potrebbe davvero uscire fuori, quindi, giocherei tra i due, un bel Djokovic, 6,50, se va male, sono contento lo stesso, ho messo, come si dice, i soldi in banca, perdo, li posso recuperare durante il torneo, Sinner a 23, certo, la quota fa gore, ma onestamente, rispondendo alla domanda che faccio nel video, non lo vedo ancora pronto, per poter vincere un torneo, però, però, ci può andare vicino, e secondo me, giocarsi anche, per modo di dire, 10 euro, a 23, in uno stake globale, dedicato alla manifestazione, su Sinner, in ogni Master 1000, c'è da provarci, perché, prima o poi, ci può arrivare, c'è qualcosina che non mi convince ancora, che purtroppo mi fa dire, la vedo dura per lui vincere un Master 1000, però, è un giocatore che veramente, l'Italia ci deve credere, perché, i giocatori così, non ne passavano da tempo, da questo punto di vista, poi, capita in un momento, dove i big, in questo momento, Nadale e Dioculici in particolare, perché Federer, Murray, per vari motivi, non li metterai più, tra i primi, sono comunque, non tanto in calo, ma per vari motivi, a un momento che sono giocabili, i risultati li abbiamo visti, in un certo senso, e la terra è molto dura, per chi ha, una certa età, e determinati problemi, certo che, lui si trova già, a combattere, con giocatori in ascesa, del livello di Alcaraz, che gli è sicuramente, in questo momento, superiore, anche altri rodati, come Zizipas e Zweren, che l'ho battuto di recente, anzi, entrambi l'ho battuto di recente, sul cemento, però sulla terra, sono giocabili entrambi, che comunque, hanno già ottenuto, dei risultati importanti, quindi, se non riesce a mettersi alla pari, chiaramente, poi, rimane indietro, a livello generale, quindi, è necessario, comunque, per Sinner, cercare di centrare, una vittoria importante, nel breve termine, altrimenti, rischia sicuramente, di andare giù, proprio anche, a livello morale, e poi, non dico che capiti, un'involuzione, però ecco, com'è difficile gestire, la pressione in alto, anche quando, nei tanto addosso, non ottieni risultati, non è facile, perché da Sinner, non ci si aspettano i piazzamenti, da Sinner, ci si aspettano le vittorie, queste vittorie, a livello di tornei importanti, stanno completamente mancando, comunque, staremo a vedere, nome finale, per la vittoria del torneo, io, butto lì, Djokovic, Alcaraz, e poi, il terzo, è giusto mettere una sorpresa, quindi, ci metto dentro Sinner, questa è la mia idea, come sempre, ne parleremo, anzi, fatelo nei commenti, dicendo la vostra, o commentando a fine torneo, vedendo come mi sono, più o meno avvicinato, poi, non è un pronostico, basato su Asia Noz, sul sistema, o quant'altro, ma un pronostico di investimento, basato su come, semplicemente, seguo il tennis, poi, chiaramente, l'Asia Noz, nelle singole partite, mi può permettere, di fare delle coperture, alla giocata, magari, proprio, sul favorito, perché, favorito, comunque, sarà quotato anche molto basso, se quel giorno, in difficoltà, è a contro, una quota, 3-4, ma, può rischiare di perdere, se le Asia Noz, mi danno anche un segnale, posso già cominciare a coprirmi, e recuperare interamente, il mio investimento, a quel punto, parto già in parità, non vado più a scommettere, su un altro favorito, magari, anche se nel torneo, poi cambiano le quote, ma, proseguo singolarmente, con i match, ovviamente, per informazioni, sulla guida, tennis, mi farebbe piacere, sapere, a quanti interessa, quindi, magari, nei commenti, fatemi sapere, se è un tipo di guida, con le Asia Noz, con il bookmaker, spia, che vi piace, e comunque, c'è un progetto, che uscirà veramente, dal mio punto di vista, come sempre, di alta qualità, senza concorrenza, sul mercato, e a un prezzo, molto, molto appetibile a tutti, perché so benissimo, che il tennis, non è lo sport principale, quindi, magari, molti, o si avvicinano adesso, o lo seguono, ma magari, non hanno attitudine, abitudine, a giocarci, in realtà, vi assicuro, che è veramente, molto, molto interessante, soprattutto, quando poi, nel calcio, non dico che ci si stufi, però, qualcuno, ho già fatto vedere, il cambio delle manifestazioni, adesso finiscono i tornei principali, magari, a qualcuno, non piace passare, ai tornei, Scandinavia, Sud America, Asia, eccetera, eccetera, e quindi, magari, nella pausa, del calcio, cosiddetto che conta, magari, passa a un altro sport, molti, per esempio, mi hanno anche nominato il basket, parleremo anche di quello, però, a me piace fare le cose, fatte bene, quindi, ci vuole un certo studio, e un certo, diciamo, backtesting, per poter avere dei riscontri, e quindi, puoi andare, ovviamente, a effettuare, delle impostazioni, di giocate, quindi, scrivere, poi, e fare dei video, relativamente, proprio ai metodi, perché, altrimenti, siamo sempre lì, non si possono fare le cose, a metà, aspetto i vostri commenti, ovviamente, un like al video, se vi è piaciuto, iscrivetevi, o abbonatevi al canale, a seconda dei vostri interessi, io vi ringrazio, l'appuntamento, e ai prossimi video, ciao a tutti,